paolo chiamato ad essere apostolo di gesù cristo per volontà di dio e il fratello sostene alla chiesa di dio che è in corinto a coloro che sono stati santificati in cristo gesù chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del signore nostro gesù cristo signore nostro e loro grazia a voi e pace da dio padre nostro e dal signore gesù cristo ringrazio continuamente il mio dio per voi a motivo della grazia di dio che vi è stata data in cristo gesù perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni quelli della parola e quelli della scienza la testimonianza di cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente che nessun dono di grazia più vi manca mentre aspettate la manifestazione del signore nostro gesù cristo egli vi confermerà sino alla fine irreprensibili nel giorno del signore nostro gesù cristo fedele e dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del figlio suo gesù cristo signore nostro vi esorto pertanto fratelli per il nome del signore nostro gesù cristo ad essere tutti unanimi nel parlare perché non vi siano divisioni tra voi ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo fratelli dalla gente di cloe che vi sono discordie tra voi mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice io sono di paolo io invece sono di apollo e io di cefa e io di cristo cristo è stato forse diviso forse paolo è stato crocifisso per voi o è nel nome di paolo che siete stati battezzati ringrazio dio di non avere battezzato nessuno di voi se non crispo e gaio perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome ho battezzato è vero anche la famiglia di stefana ma degli altri non so se abbia battezzato alcuno cristo infatti non mi ha mandato a battezzare ma a predicare il vangelo non però con un discorso sapiente perché non venga resa vana la croce di cristo la parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione ma per quelli che si salvano per noi è potenza di dio sta scritto infatti distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti dov'è il sapiente dov'è il dotto dove mai il sottile ragionatore di questo mondo non ha forse dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo poiché infatti nel disegno sapiente di dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto dio è piaciuto a dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione e mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza noi predichiamo cristo scandalo per i giudei stoltezza per i pagani ma per coloro che sono chiamati sia giudei che greci predichiamo cristo potenza di dio e sapienza di dio perché ciò che è stoltezza di dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di dio è più forte degli uomini considerate infatti la vostra chiamata fratelli non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne non molti potenti non molti nobili ma dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a dio ed è per lui che voi siete in cristo gesù il quale per opera di dio è diventato per noi sapienza giustizia santificazione e redenzione perché come sta scritto chi si vanta si vanti nel signore anch'io o fratelli quando sono venuto tra voi non mi sono presentato ad annunciarvi la testimonianza di dio con sublimità di parola o di sapienza io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non gesù cristo e questi crocifisso io venne in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza ma sulla manifestazione dello spirito e della sua potenza perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza di dio tra i perfetti parliamo sì di sapienza ma di una sapienza che non è di questo mondo né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla parliamo di una sapienza divina misteriosa che è rimasta nascosta e che dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il signore della gloria sta scritto infatti quelle cose che occhio non vide né orecchio udì né mai entrarono in cuore di uomo queste ha preparato dio per coloro che lo amano ma a noi dio le ha rivelate per mezzo dello spirito lo spirito infatti scruta ogni cosa anche le profondità di dio chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che in lui così anche i segreti di dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo spirito di dio ora se noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito di dio per conoscere tutto ciò che dio ci ha di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana ma insegnato dallo spirito esprimendo cose spirituali in termini spirituali l'uomo naturale però non comprende le cose dello spirito di dio esse sono follia per lui e non è capace di intendere perché se ne può giudicare solo per mezzo dello spirito l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno chi infatti ha conosciuto il pensiero del signore in modo da poterlo dirigere ora noi abbiamo il pensiero di cristo io fratelli sinora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali ma come ad esseri carnali come a neonati in cristo vi ho dato da bere latte non un nutrimento solido perché non ne eravate capaci e neanche ora lo siete perché siete ancora carnali dal momento che c'è tra voi invidia e discordia non siete forse carnali e non vi comportate in maniera tutta umana quando uno dice io sono di paolo e un altro io sono di apollo non vi dimostrate semplicemente uomini ma che cosa è mai apollo cosa è paolo ministri attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno secondo che il signore gli ha concesso io ho piantato apollo ha irrigato ma è dio che ha fatto crescere ora né chi pianta né chi irriga è qualche cosa ma dio che fa crescere non c'è differenza tra chi pianta e chi irriga ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro siamo infatti collaboratori di dio e voi siete il campo di dio l'edificio di dio secondo la grazia di dio che mi è stata data come un sapiente architetto io ho posto il fondamento un altro poi vi costruisce sopra ma ciascuno stia attento come costruisce infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova che è Gesù Cristo e se sopra questo fondamento si costruisce con oro argento pietre preziose legno fieno paglia l'opera di ciascuno sarebbe invisibile la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco e il fuoco proverà le qualità dell'opera di ciascuno se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà costui ne riceverà una ricompensa ma se l'opera finirà bruciata sarà punito tuttavia egli si salverà però come attraverso il fuoco non sapete che siete tempio di dio e che lo spirito di dio abita in voi se uno distrugge il tempio di dio dio distruggerà lui perché santo è il tempio di dio che siete voi nessuno si illuda se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo si faccia stolto per diventare sapiente perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a dio sta scritto infatti egli prende i sapienti per mezzo della loro astuzia e ancora il signore sa che i disegni dei sapienti sono vani quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini perché tutto è vostro paolo apollo cefa il mondo la vita la morte il presente il futuro tutto è vostro ma voi siete di cristo e cristo è di dio ognuno si consideri come ministro di cristo e amministratore dei misteri di dio ora quanto si chiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele a me però poco importa di venire giudicato da voi o da un consesso umano anzi io neppure giudico me stesso perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna non per questo sono giustificato il mio giudice è il signore non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo finché venga il signore egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori allora ciascuno avrà la sua lode in dio queste cose fratelli io le ho applicate a modo di esempio a me e ad apollo per vostro profitto perché impariate nelle nostre persone a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio a favore di uno contro un altro chi dunque ti ha dato questo privilegio che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto e se l'hai ricevuto perché tenevanti come non l'avessi ricevuto già siete sazi già siete diventati ricchi senza di noi già siete diventati re magari foste diventati re così anche noi potremmo regnare con voi ritengo infatti che dio abbia messo noi gli apostoli all'ultimo posto come condannati a morte perché siamo diventati spettacolo al mondo agli angeli e agli uomini noi storti a causa di cristo voi sapienti in cristo noi deboli voi forti voi onorati noi disprezzati fino a questo momento soffriamo la fame la sete la nudità veniamo schiaffeggiati andiamo vagando di luogo in luogo ci affatichiamo lavorando con le nostre mani insultati benediciamo perseguitati sopportiamo calunniati confortiamo siamo diventati come la spazzatura del mondo il rifiuto di tutti fino a oggi non per farvi vergognare vi scrivo queste cose ma per ammonirvi come figli miei carissimi potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in cristo ma non certo molti padri perché sono io che vi ho generato in cristo gesù mediante il vangelo vi esorto dunque fatevi miei immagini imitatori per questo appunto vi ho mandato timoteo mio figlio di letto e fedele nel signore egli vi richiamerà alla memoria le vie che vi ho indicato in cristo come insegno dappertutto in ogni chiesa come se io non dovessi più venire da voi alcuni hanno preso a gonfiarsi d'orgoglio ma verrò presto se piacerà al signore e mi renderò conto allora non già delle parole di quelli gonfi di orgoglio ma di ciò che veramente sanno fare perché il regno di dio non consiste in parole ma in potenza che volete debbo venire a voi con il bastone o con amore e con spirito di dolcezza si sente dappertutto parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra nemmeno tra i pagani al punto che uno convive con la moglie di suo padre e voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che esserne afflitti in modo che si tolga di mezzo a voi chi ha compiuto una tale azione orbene io assente col corpo ma presente con lo spirito ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione nel nome del signore nostro gesù essendo radunati insieme voi e il mio spirito con il potere del signore nostro gesù questo individuo sia dato in balia di satana per la rovina della sua carne affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del signore non è una bella cosa il vostro vanto non sapete che un po di lievito fa fermentare tutta la pasta togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova poiché siete azimi e infatti cristo nostra pasqua è stato immolato celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio né con lievito di malizia e di perversità ma con azimi di sincerità e di verità vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi con gli impudichi non mi riferivo però agli impudichi di questo mondo o agli avari ai ladri o agli idolatri altrimenti dovreste uscire dal mondo vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è impudico o avaro o idolatra o maldicente o briacone o ladro con questi tali non dovete neanche mangiare insieme spetta forse a me giudicare quelli di fuori non sono quelli di dentro che voi giudicate quelli di fuori li giudicherà dio togliete il malvagio di mezzo a voi vettra voi chi avendo una questione con un altro osa farsi giudicare dagli ingiusti anziché dai santi o non sapete che i santi giudicheranno il mondo e se è da voi che verrà giudicato il mondo siete dunque indegni di giudizi di minima importanza non sapete che giudicheremo gli angeli quanto più le cose di questa vita se dunque avete liti per cose di questo mondo voi prendete a giudici gente senza autorità nella chiesa lo dico per vostra vergogna cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa far da arbitro tra fratello e fratello no anzi un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti ai infedeli e dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli perché non subire piuttosto l'ingiustizia perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene siete voi invece che commettete ingiustizia e rubate e ciò ai fratelli o non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di dio non illudetevi né immorali né idolatri né adulteri né effeminati né sodomiti né ladri né avari né ubriaconi né maldicenti né rapaci né rapaci erediteranno il regno di dio e tali eravate alcuni di voi ma siete stati lavati siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del signore gesù cristo e nello spirito del nostro dio tutto mi è lecito ma non tutto giova tutto mi è lecito ma io non mi lascerò dominare da nulla i cibi sono per il ventre il ventre per i cibi ma dio distruggerà questo e per quelli il corpo poi non è per l'impudicizia ma per il signore e il signore è per il corpo dio poi che ha risuscitato il signore risusciterà anche noi con la sua potenza non sapete che i vostri corpi sono membra di cristo prenderò dunque le membra di cristo e ne farò membra di una prostituta non sia mai o non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo i due saranno è detto un corpo solo ma chi si unisce al signore forma con lui un solo spirito fuggite la fornicazione qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il pop il proprio corpo o non sapete che il vostro corpo è tempio dello spirito santo che è in voi e che avete da dio e che non appartenete a voi stessi infatti siete stati comprati a caro prezzo glorificate dunque dio nel vostro corpo quanto poi alle cose di cui mi avete scritto è cosa buona per l'uomo non toccare donna tuttavia per il pericolo dell'incontinenza ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito il marito compie il suo dovere verso la moglie ugualmente anche la moglie verso il marito la moglie non è arbitra del proprio corpo lo è il marito allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo ma lo è la moglie non astenetevi tra voi se non di comune accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera e poi ritornate a stare insieme perché satana non vi tenti nei momenti di passione questo però vi dico per concessione non per comando vorrei che tutti fossero come me ma ciascuno ha il proprio dono da dio chi in un modo chi in un altro ai non sposati e alle vedove dico è cosa buona per loro rimanere come sono io ma se non sanno vivere in continenza si sposino è meglio sposarsi che ardere agli sposati poi ordino non io ma il signore la moglie non si separi dal marito e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito e il marito non ripudi la moglie agli altri dico io non il signore se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui non la ripudi e una donna che abbia il marito non credente se questi consente a rimanere con lei non lo ripudi perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente altrimenti i vostri figli sarebbero impuri mentre invece sono santi ma se il non credente vuole separarsi si separi in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù dio vi ha chiamati alla pace e che sai tu donna se salverai il marito o che sai tu uomo se salverai la moglie fuori di questi casi ciascuno continui a vivere secondo la condizione che gli ha assegnato il signore così come dio lo ha chiamato così dispongo in tutte le chiese qualcuno è stato chiamato quando era circonciso non lo nasconda è stato chiamato chiamato quando non era ancora circonciso non si faccia circoncidere la circoncisione non conta nulla e la non circoncisione non conta nulla conta invece l'osservanza dei comandamenti di dio ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato se è stato chiamato da schiavo non ti preoccupare ma anche se puoi diventare libero profitta piuttosto della tua condizione perché lo schiavo che è stato chiamato nel signore è un liberto affrancato dal signore similmente chi è stato chiamato da libero è schiavo di cristo siete stati comprati a caro prezzo non fatevi schiavi degli uomini ciascuno fratelli rimanga davanti a dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato quanto alle vergini non ho alcun comando dal signore ma da un consiglio come uno che ha ottenuto misericordia dal signore e merita fiducia penso dunque che sia bene per l'uomo a causa della presente necessità di rimanere così ti trovi legato a una donna non cercare di scioglierti sei sciolto da donna non andare a cercarla però se ti sposi non fai peccato e se la giovane prende marito non fa peccato tuttavia costoro avranno tribolazioni nella carne e io vorrei risparmiarvele questo vi dico fratelli il tempo ormai si è fatto breve d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero coloro che piangono come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero quelli che comprano come se non possedessero quelli che usano del mondo come se non ne usassero perché passa la scena di questo mondo io vorrei vedervi senza preoccupazioni chi non è sposato si preoccupa delle cose del signore come possa piacere al signore chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere alla moglie e si trova diviso così la donna non sposata come la vergine si preoccupa delle cose del signore per essere santa nel corpo e nello spirito la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere al marito questo poi lo dico per il vostro bene non per gettarvi un laccio ma per indirizzarvi a ciò che è degno e vi tiene uniti al signore senza distrazioni se però qualcuno ritiene di non regolarsi convenientemente nei riguardi della sua vergine qualora essa sia oltre il fiore dell'età e conviene che accada così faccia ciò che vuole non pecca si sposino pure chi invece è fermamente deciso in cuor suo non avendo nessuna necessità ma è arbitro della propria volontà e da deliberato in cuor suo di conservare la sua vergine fa bene in conclusione colui che sposa la sua vergine fa bene e chi non la sposa fa meglio la moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole purché ciò avvenga nel signore ma se rimane così a mio parere è meglio credo infatti di avere anche io lo spirito di dio quanto poi alle carni immolate agli idoli sappiamo di averne tutti scienza ma la scienza gonfia mentre la carità edifica se alcuno crede di sapere qualche cosa non ha ancora imparato come bisogna sapere chi invece ama dio è da lui conosciuto quanto dunque al mangiare le carni immolate agli idoli noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo e che non c'è che un dio solo e in in realtà anche se vi sono i cosiddetti dei sia nel cielo sia sulla terra e di fatti ci sono molti dei molti signori per noi c'è un solo dio il padre dal quale tutto proviene e noi siamo per lui è un solo signore gesù cristo in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui ma non tutti hanno questa scienza alcuni per la consuetudine avuta fino al presente con gli idoli mangiano le carni come se fossero davvero immolate agli idoli e così la loro coscienza debole com'è resta contaminata non sarà certo un alimento ad avvicinarci a dio né se non ne mangiamo veniamo a mancare di qualche cosa né mangiandone né abbiamo un vantaggio badate però che questa vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli se uno infatti vede te che alla scienza stare a convito in un tempio di idoli la coscienza di quell'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni immolate agli idoli ed ecco per la tua scienza va in rovina il debole un fratello per il quale cristo è morto peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole voi peccate contro cristo per questo se un cibo scandalizza il mio fratello non mangerò mai più carne per non dare scandalo a mio fratello non sono forse libero io non sono un apostolo non ho veduto gesù signore nostro e non siete voi la mia opera nel signore anche se per altri non sono apostolo per voi almeno lo sono voi siete il sigillo del mio apostolato nel signore questa è la mia difesa contro quelli che mi accusano non abbiamo forse noi il diritto di mangiare di bere non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del signore e cefa ovvero solo io e barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare e chi mai presta servizio militare a proprie spese chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto o chi fa a pascolare un greggio senza cibarsi del latte del greggio io non dico questo da un punto di vista umano è la legge che dice così sta scritto infatti nella legge di mosè non metterai la museruola al bue che trebbia forse dio si dà pensiero dei buoi oppure lo dice proprio per noi certamente fu scritto per noi poiché colui che ara deve arare nella speranza di avere la sua parte come il trebbiatore trebbiare nella stessa speranza se noi abbiamo seminato in voi le cose spirituali è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali se gli altri hanno tale diritto su di voi non l'avremmo noi di più noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto ma tutto sopportiamo per non recare in tralcio al vangelo di cristo non sapete che coloro che celebrano il culto traggono il vitto dal culto e coloro che attendono all'altare hanno parte dell'altare così anche il signore ha disposto che quelli che annunziano il vangelo vivano del vangelo ma io non mi sono avvalso di nessuno di questi diritti né ve ne scrivo perché ci si regoli in tal modo con me preferirei piuttosto morire nessuno mi toglierà questo vanto non è infatti per me un vanto predicare il vangelo è un dovere per me guai a me se non predicassi il vangelo se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla ricompensa ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato qual è dunque la mia ricompensa quella di predicare gratuitamente il vangelo senza usare del diritto conferitomi dal vangelo infatti pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei con coloro che sono sotto la legge sono diventato come uno che è sotto la legge pur non essendo sotto la legge allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge con coloro che non hanno legge sono diventato come uno che è senza legge pur non essendo senza la legge di dio anzi essendo nella legge di cristo per guadagnare coloro che sono senza legge mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare deboli mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno tutto io faccio per il quello per diventarne partecipe con loro non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono ma uno solo conquista il premio correte anche voi in modo da conquistarvelo però ogni atleta è temperante in tutto essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile noi invece una incorruttibile io dunque corro ma non come chi è senza meta faccio il pugilato ma non come chi batte l'aria anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo di avere predicato agli altri venga io stesso squalificato non voglio infatti che ignoriate o fratelli che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola tutti attraversarono il mare tutti furono battezzati in rapporto a mosè nella nuvola e nel mare tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale tutti bevero la stessa bevanda spirituale bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il cristo ma della maggior parte di loro dio non si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto ora ciò avvenne come esempio per noi perché non desiderassimo cose cattive come essi le desideravano non diventate idolatri come alcuni di loro secondo quanto sta scritto il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi non abbandoniamoci alla fornicazione come vi si abbondarono alcuni di essi e ne caddero in un solo giorno 23.000 non mettiamo alla prova il signore come fecero alcuni di essi e caddero vittima dei serpenti non mormorate come mormorarono alcuni di essi e caddero vittima dello sterminatore tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per ammonimento nostro di noi per i quali è arrivata alla fine dei tempi quindi chi crede di stare in piedi guardi di non cadere nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana infatti dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla perciò o miei cari fuggite l'idolatria parlo come a persone intelligenti giudicate voi stessi quello che dico il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di cristo e il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo cristo poiché c'è un solo pane noi pur essendo molti siamo un corpo solo tutti infatti partecipiamo dell'unico pane guardate israele secondo la carne quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare che cosa dunque intendo dire che la carne immolata agli idoli è qualche cosa o che un idolo è qualche cosa no ma dico che i sacrifici dei pagani sono fatti a demoni e non a dio ora io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni non potete bere il calice del signore e il calice dei demoni non potete partecipare alla mensa del signore e alla mensa dei demoni o vogliamo provocare la gelosia del signore siamo forse più forti di lui tutto è lecito ma non tutto è utile tutto è lecito ma non tutto edifica nessuno cerchi l'utile proprio ma quello altrui tutto ciò che è in vendita sul mercato mangiatelo pure senza indagare per motivo di coscienza perché del signore è la terra e tutto ciò che essa contiene se qualcuno non credente vi invita e volete andare mangiate tutto quello che vi viene posto davanti senza fare questioni per motivo di coscienza ma se qualcuno vi dicesse è carne immolata in sacrificio astenetevi dal mangiarne per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza della coscienza dico non tua ma dell'altro per qual motivo infatti questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui se io con rendimento di grazie partecipo alla mensa perché dovrei essere biasimato per quello di cui rendo grazie sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa fate tutto per la gloria di dio non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla chiesa di dio così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto senza cercare l'utile mio ma quello di molti perché giungano alla salvezza fatevi miei imitatori come io lo sono di cristo vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è cristo e capo della donna è l'uomo e capo di cristo è dio ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al proprio capo ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo manca di riguardo al proprio capo perché è lo stesso che si fosse rasata se dunque una donna non vuol mettersi il velo si taglia anche i capelli ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi allora si copra l'uomo non deve coprirsi il capo perché egli è immagine e gloria di dio la donna invece è gloria dell'uomo e infatti non l'uomo deriva dalla donna ma la donna dall'uomo né l'uomo fu creato per la donna ma la donna per l'uomo per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza a motivo degli angeli tuttavia nel signore né la donna è senza l'uomo né l'uomo è senza la donna come infatti la donna deriva dall'uomo così l'uomo ha vita dalla donna tutto poi proviene da dio giudicate voi stessi è conveniente che una donna faccia preghiera a dio con capo scoperto non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere la chioma le è stata data a guisa di velo se poi qualcuno ha il gusto della contestazione noi non abbiamo questa consuetudine e neanche la e mentre vi do queste istruzioni non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio ma per il peggio innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi e in parte lo credo è necessario infatti che avvengano divisioni tra voi perché si manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a voi quando dunque vi radunate insieme il vostro non è più un mangiare la cena del signore ciascuno infatti quando partecipa alla cena prende prima il proprio pasto e così uno ha fame e l'altro è ubriaco non avete forse le vostre case per mangiare per bere o volete gettare il disprezzo sulla chiesa di dio e far vergognare chi non ha niente che devo dirvi lo darvi in questo non vi lodo io infatti ho ricevuto dal signore quello che a mia volta vi ho trasmesso il signore gesù nella notte in cui veniva tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse questo è il mio corpo che è per voi fate questo in memoria di me allo stesso modo dopo aver cenato prese anche il calice dicendo questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del signore finché egli venga perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del signore sarà reo del corpo e del sangue del signore ciascuno pertanto esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del signore mangia e beve la propria condanna è per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi e un buon numero sono morti se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi non saremmo giudicati quanto poi siamo giudicati dal signore veniamo ammoniti per non essere condannati insieme con questo mondo perciò fratelli miei quando vi radunate per la cena aspettatevi gli uni gli altri e se qualcuno ha fame mangi a casa perché non vi raduniate a vostra condanna quanto alle altre cose le sistemerò alla mia venuta riguardo ai doni dello spirito fratelli non voglio che restiate nell'ignoranza voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l'impulso del momento ebbene io vi dichiaro come nessuno che parli sotto l'azione dello spirito di dio può dire gesù è anatema così nessuno può dire gesù è signore se non sotto l'azione dello spirito santo vi sono poi diversità di carismi ma uno solo è lo spirito vi sono diversità di ministeri ma uno solo è il signore vi sono diversità di operazioni ma uno solo è dio che opera tutto in tutti e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello spirito per l'utilità comune a uno viene concesso dallo spirito il linguaggio della sapienza a un altro invece per mezzo dello stesso spirito il linguaggio di scienza a uno la fede per mezzo dello stesso spirito a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico spirito a uno il potere dei miracoli a un altro il dono della profezia a un altro il dono di distinguere gli spiriti a un altro le varietà delle lingue a un altro infine l'interpretazione della lingua ma tutte queste cose è l'unico e medesimo spirito che le opera distribuendone a ciascuno come vuole come infatti il corpo pur essendo uno a molte membra e tutte le membra pur essendo molte sono un corpo solo così anche cristo e in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo giudei o greci schiavi o liberi e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito ora il corpo non risulta di un membro solo ma di molte membra se il piede dicesse poiché io non sono umano non appartengo al corpo non per questo non farebbe più parte del corpo e se l'orecchio dicesse poiché io non sono occhio non appartengo al corpo non per questo non farebbe più parte del corpo se il corpo fosse tutto occhio dove sarebbe l'udito se fosse tutto udito dove l'odorato ora invece dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo come egli ha voluto se poi tutto fosse un membro solo dove sarebbe il corpo invece molte sono le membra ma uno solo è il corpo non può l'occhio dire alla mano non ho bisogno di te né la testa ai piedi non ho bisogno di voi anzi quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto e quelle indecorose sono trattate con maggior decenza mentre quelle decenti non ne hanno bisogno ma dio ha composto il corpo conferendo maggior onore a ciò che ne mancava perché non vi fosse disunione nel corpo ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre quindi se un membro soffre tutte le membra soffrono insieme e se un membro è onorato tutte le membra gioiscono con lui ora voi siete corpo di cristo e sue membra ciascuno per la sua parte alcuni perciò dio li ha posti nella chiesa in primo luogo come apostoli in secondo luogo come profeti poi i doni di far guarigioni i doni di far guarigioni i doni di assistenza di governare delle lingue sono forse tutti apostoli tutti i profeti tutti i maestri tutti operatori di miracoli tutti possiedono doni di far guarigioni tutti parlano lingue tutti le interpretano aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via migliore di tutte se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi la carità sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintin e se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne ma non avessi la carità non sono nulla e se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato ma non avessi la carità niente mi giova la carità è paziente è benigna la carità non è invidiosa la carità non si vanta non si gonfia non manca di rispetto non cerca il suo interesse non si adira non tiene conto del male ricevuto non gode dell'ingiustizia ma si compiace della verità tutto copre tutto crede tutto spera tutto sopporta la carità non avrà mai fine le profezie scompariranno il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà la nostra conoscenza è imperfetta è imperfetta la nostra profezia ma quando verrà ciò che è perfetto quello che è imperfetto scomparirà quando ero bambino parlavo da bambino pensavo da bambino ragionavo da bambino ma divenuto uomo ciò che era da bambino l'ho abbandonato ora vediamo come uno specchio in maniera confusa ma allora vedremo a faccia a faccia ora conosco il modo imperfetto ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto queste dunque le tre cose che rimangono la fede la speranza e la carità ma di tutte più grande è la carità ricercate la carità aspirate pure anche ai doni dello spirito soprattutto alla profezia chi infatti con il dono delle lingue parla non parla agli uomini ma a dio già che nessuno comprende mentre egli dice per ispirazione cose misteriose chi profetizza invece parla agli uomini per loro edificazione esortazione e conforto chi parla con il dono delle lingue edifica se stesso chi profetizza edifica l'assemblea vorrei vedervi tutti parlare con il dono delle lingue ma preferisco che abbiate il dono della profezia in realtà è più grande colui che profetizza di colui che parla con il dono delle lingue a meno che egli anche non interpreti perché l'assemblea ne riceva edificazione e ora fratelli supponiamo che io venga da voi parlando con il dono delle lingue in che cosa potrei esservi utile se non vi parlassi in rivelazione o in scienza o in profezia o in dottrina è quanto accade per gli oggetti inanimati che emettono un suono come il flauto o la cetra se non si distinguono con chiarezza i suoni come si potrà distinguere ciò che si suona col flauto da ciò che si suona con la cetra e se la tromba emette un suono confuso chi si preparerà al combattimento così anche voi se non pronunziate parole chiare con la lingua come si potrà comprendere ciò che andate dicendo parlerete al vento nel mondo vi sono chissà quante varietà di lingue e nulla è senza un proprio linguaggio ma se io non conosco il valore del suono sono come uno straniero per colui che mi parla e chi mi parla sarà uno straniero per me quindi anche voi poiché desiderate i doni dello spirito cercate di averne in abbondanza per l'edificazione della comunità perciò chi parla con il dono delle lingue preghi di poterle interpretare quando infatti prego con il dono delle lingue il mio spirito prega ma la mia intelligenza rimane senza frutto che fare dunque pregherò con lo spirito ma pregherò anche con l'intelligenza canterò con lo spirito ma canterò anche con l'intelligenza altrimenti se tu benedici soltanto con lo spirito colui che assiste come non iniziato come potrebbe dire l'amen al tuo ringraziamento dal momento che non capisce quello che dici tu puoi fare un bel ringraziamento ma l'altro non viene edificato grazie a dio io parlo con il dono delle lingue molto più di tutti voi ma in assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri piuttosto che diecimila parole con il dono delle lingue fratelli non comportatevi da bambini nei giudizi siate come bambini quanto a malizia ma uomini maturi quanto a giudizi sta scritto nella legge parlerò a questo popolo in altre lingue e con le labbra di stranieri ma neanche così mi ascolteranno dice il signore quindi le lingue non sono un segno per i credenti ma per i non credenti mentre la profezia non è per i non credenti ma per i credenti se per esempio quando si raduna tutta la comunità tutti parlassero con il dono delle lingue e sopraggiungessero dei non iniziati o non credenti non direbbero forse che siete pazzi se invece tutti profetassero e sopraggiungesse qualche non credente o un non iniziato verrebbe convinto del suo errore da tutti giudicato da tutti sarebbero manifestati i segreti del suo cuore e così prostrandosi a terra adorerebbe dio proclamando che veramente dio è fra voi che fare dunque fratelli quando vi radunate ognuno può avere un salmo un insegnamento una rivelazione un discorso in lingue il dono di interpretarle ma tutto si faccia per l'edificazione quando si parla con il dono delle lingue siano in due o al massimo in tre a parlare e per ordine uno poi faccia da interprete se non vi è chi interpreta ciascuno di essi taccia nell'assemblea e parli solo a se stesso e a dio i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino se uno di quelli che sono seduti riceve una rivelazione il primo taccia tutti infatti potete profetare uno alla volta perché tutti possano imparare ed essere esortati ma le ispirazioni dei profeti devono essere sottomesse ai profeti perché dio non è un dio di disordine ma di pace come in tutte le comunità dei fedeli le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare stiano invece sottomesse come dice anche la legge se vogliono imparare qualcosa intervino a casa i loro mariti perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea forse la parola di dio è partita da voi o è giunta soltanto a voi chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello spirito deve riconoscere che quanto scrivo è comando del signore se qualcuno non lo riconosce neppure lui è riconosciuto dunque fratelli miei aspirate alla profezia e quanto al parlare con il dono delle lingue non impeditelo ma tutto avvenga decorosamente e con ordine vi rendo noto fratelli il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato altrimenti avreste creduto in vano vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto che cioè cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a cefa e quindi ai dodici in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta la maggior parte di essi vive ancora mentre alcuni sono morti inoltre apparve a giacomo e quindi a tutti gli apostoli ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di dio per grazia di dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana anzi ho faticato più di tutti loro non io però ma la grazia di dio che è con me pertanto sia io che loro così predichiamo e così avete creduto ora se si predica che cristo è risuscitato dai morti come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti se non esiste risurrezione dei morti neanche cristo è risuscitato ma se cristo non è risuscitato allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede noi poi risultiamo falsi testimoni di dio perché contro dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato cristo mentre non lo ha risuscitato se è vero che i morti non risorgono se infatti i morti non risorgono neanche cristo è risorto ma se cristo non è risorto è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati e anche quelli che sono morti in cristo sono se poi noi abbiamo avuto speranza in cristo soltanto in questa vita siamo da compiangere più di tutti gli uomini ora invece cristo è risuscitato dai morti primizia di coloro che sono morti perché se a causa di un uomo venne la morte a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti e come tutti muoiono in adamo così tutti riceveranno la vita in cristo ciascuno però nel suo ordine prima cristo che è la primizia poi alla sua venuta quelli che sono di cristo poi sarà la fine quando egli consegnerà il regno a dio padre dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi l'ultimo nemico ad essere orientato sarà la morte perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta è chiaro che si deve eccettuare colui che gli ha sottomesso ogni cosa e quando tutto gli sarà stato sottomesso anche lui il figlio sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa perché dio sia tutto in tutti altrimenti che cosa farebbero quelli che vengono battezzati per i morti se davvero i morti non risorgono perché si fanno battezzare per loro e perché noi ci esponiamo al pericolo continuamente ogni giorno io affronto la morte come è vero che voi siete il mio vanto fratelli in Cristo Gesù nostro Signore se soltanto per ragioni umane io avessi combattuto a Efeso contro le belve a che mi gioverebbe? se i morti non risorgono mangiamo e beviamo perché domani moriremo non lasciatevi ingannare le cattive compagnie corrompono i buoni costumi ritornate in voi come conviene e non peccate alcuni infatti dimostrano di non conoscere Dio ve lo dico a vostra vergogna ma qualcuno dirà come risuscitano i morti? con quale corpo verranno? stolto ciò che tu semini non prende vita se prima non muore e quello che semini non è il corpo che nascerà ma un semplice chicco di grano per esempio o di altro genere e Dio gli dà un corpo come ha stabilito e a ciascun seme il proprio corpo non ogni carne è la medesima carne altra è la carne di uomini e altra quella di animali altra quella di uccelli e altra quella di pesci vi sono corpi celesti e corpi terrestri ma altro è lo splendore dei corpi celesti e altro quello dei corpi terrestri altro è lo splendore del sole altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle ogni stella infatti differisce da un'altra nello splendore così anche la resurrezione dei morti si semina corruttibile e risorge incorruttibile si semina ignobile e risorge glorioso si semina debole e risorge pieno di forza si semina un corpo animale risorge un corpo spirituale se c'è un corpo animale vi è anche un corpo spirituale poiché sta scritto che il primo uomo, Adamo divenne un essere vivente ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita non vi fu prima il corpo spirituale ma quello animale e poi lo spirituale il primo uomo tratto dalla terra è di terra il secondo uomo viene dal cielo qual è l'uomo fatto di terra? così sono quelli di terra ma quale il celeste così anche i celesti e come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra così porteremo l'immagine dell'uomo celeste questo vi dico, oh fratelli la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità ecco io vi annunzio un mistero non tutti certo moriremo ma tutti saremo trasformati in un istante in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati è necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità quanto poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale e questo corpo mortale di immortalità si compirà la parola della scrittura la morte è stata ingoiata per la vittoria dove è, oh morte la tua vittoria dove è, oh morte il tuo pungiglione il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo perciò fratelli miei carissimi rimanete saldi e irremovibili prodicandovi sempre nell'opera del Signore sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore quanto poi alla colletta in favore dei fratelli fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare perché non si facciano le collette proprio quando verrò io quando poi giungerò manderò con una mia lettera quelli che voi avrete scelto per portare il dono della vostra liberalità a Gerusalemme e se converrà che vada anch'io essi partiranno con me verrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia poiché la Macedonia intendo solo attraversarla ma forse mi fermerò da voi o anche passerò l'inverno perché siate voi a predisporre il necessario per dove andrò non voglio vedervi solo di passaggio ma spero di trascorrere un po' di tempo con voi se il Signore lo permetterà mi fermerò tuttavia a Efeso fino a Pentecoste perché mi si è aperta una porta grande e propizia anche se gli avversari sono molti quando verrà Timoteo fate che non si trovi in soggezione presso di voi già che anche lui lavora come me per l'opera del Signore nessuno dunque gli manchi di riguardo al contrario accomiatatelo in pace perché ritorni presto da me io lo aspetto con i fratelli quanto poi al fratello Apollo l'ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli ma non ha voluto assolutamente saperne di partire ora verrà tuttavia quando gli si presenterà l'occasione vigilate state saldi nella fede comportatevi da uomini siate forti tutto si faccia tra voi nella carità una raccomandazione ancora fratelli conoscete la famiglia di Stefana che è primizia della caia hanno dedicato se stessi a servizio dei fedeli siate anche voi deferenti verso di loro e verso quanti collaborano e si affaticano con loro io mi rallegro della visita di Stefana di Fortunato e di Alaico i quali hanno supplito alla vostra assenza essi hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro sappiate apprezzare si fatte persone le comunità dell'asia vi salutano vi salutano molto nel signore aquila e prisca con la comunità che si raduna nella loro casa vi salutano i fratelli tutti salutatevi a vicenda con il bacio santo il saluto è di mia mano di paolo se qualcuno non ama il signore sia anatema maranata vieni vieni o signore la grazia del signore gesù sia con voi il mio amore con tutti voi in cristo gesù grazie